Una mia giornata tipica di lavoro dipende molto dalla stagione, perché ci sono delle stagioni tipo la primavera in cui bisogna star dietro settimana, dopo settimana alle famiglie per tirarle su per prepararle al raccolto, poi passiamo al periodo giugno-luglio in cui c'è il grande raccolto, quindi guardare che le famiglie siano pronte per raccogliere e mettere e togliere i melari a seconda delle diverse qualità di miele e spostare gli alveari a seconda delle diverse fioriture. È l'esperienza che si accumula durante gli anni, infatti si dice che un apicoltore per essere un bravo apicoltore e capire le proprie api ci vogliono dieci anni e questo è verissimo, infatti io oramai sono 15-16 anni che faccio questo lavoro e ho imparato molto bene a capire i miei alveari, le mie api, riesco a capire quando una famiglia si sta indebolendo, una famiglia non riesce a produrre il motivo e quindi di conseguenza vado a cercare di rimediare a quello che si può.